buongiorno buon martedì bentrovati al nuovo appuntamento di fabio ambrosi punto it del mattino dedicato niente dedicato niente dedicato al buongiorno perché è una scusa in realtà per salutarci 10 minuti la mattina fare colazione insieme mentre voi fate colazione io vi racconto sempre qualcosina di curioso di simpatico di interessante si spera che ha a che fare con le notizie che affrontiamo normalmente sul blog fabio ambrosi punto it oggi per esempio parliamo di una serie televisiva che è passata alla storia come non voglio esagerare la serie televisiva più vista non lo so ma probabilmente una delle più viste sì è una delle più apprezzate ovvero 24 ora se siete giovani non ve ne faccio una colpa andate credo stia su credo stia su amazon prime o su disney plus non ricordo in una delle due piattaforme c'è tutta la serie e recuperatela perché vale molto la pena da un punto di vista tecnico consiglio fortemente se invece siete anzianotti un po come me e siete nostalgici di questa fantastica serie di kiefer sutherland spero di averlo pronunciato bene perché ho dovuto cercarlo come si pronuncia perché è un nome sapete quei nomi che fate fatica a ricordare come si pronunciano kiefer sutherland perfetto lui è un attore fantastico che ha interpretato nel corso degli anni jack bauer un agente del di una fantomatica agenzia antiterrorismo statunitense noto per i suoi modi poco gentili è una serie dicevo molto bella che è durata dal 2001 al 2010 e poi ha avuto una piccola mini serie nel 2014 con solo 12 episodi e poi niente è finita qual è la notizia la notizia è che da più parti da più parti da più fonti circola la voce che vorrebbe che presto kiefer sutherland potrebbe rivestire panni di jack bauer e tornare a diciamo in una nuova stagione di 24 qual è la caratteristica che rende e che ha reso questa serie televisiva molto bella nel corso degli anni è che è stata la prima serie televisiva ad essere a raccontare i fatti in tempo reale cosa vuol dire vuol dire che è un episodio di 24 dura all'incirca un'ora considerando anche le pause pubblicitarie e nel racconto che si fa in questa serie il tempo passa esattamente come come per noi quindi un'ora di 24 nella nel film nella serie televisiva equivale ad un episodio le serie erano composte da 24 episodi e quindi ogni stagione raccontava una giornata 24 appunto di questa agenzia antiterrorismo che si chiamava ctu dico si chiamava perché poi non voglio fare spoiler se volete vedere ma questa agenzia ha avuto vicende un po un po un po così un po complicate ecco tra l'altro molto ben girata molto ben scritta e tra l'altro è difficile no se ci pensate un attimino creare una serie completamente in tempo reale perché due minuti della serie corrispondono effettivamente a due minuti di voi spettatori che state guardando anche le conversazioni telefoniche e i fatti che accadono tutto deve più o meno avere un senso e deve poter reggere devo dire che 24 nel corso di 9 stagioni complessivamente 194 episodi nelle prime otto stagioni più 12 dell'ultima stagione ha retto abbastanza bene la difficoltà di portare avanti un racconto che voi capite bene che per 200 e passa episodi potrebbe diventare noioso e ripetitivo beh a parere di chi vi parla in realtà 24 è una serie veramente molto ben scritta dicevo perché stiamo parlando perché rumors voci di corridoio vorrebbero più persone interessate a riprendere in mano la narrazione lo ha detto il presidente della fox a fine 2021 nel settembre 2021 che potrebbero essere in corso che comunque l'idea di riportare in vita 24 non sarebbe una cattiva idea lo ha ribadito anche il produttore esecutivo della serie nonché autore nel sempre nel 2021 e lo ha ribadito anche saterland saterland in realtà non ha detto che si farà ha detto che gli piacerebbe veramente tanto ha detto che il personaggio di jack bauer è uno dei migliori personaggi che lui abbia mai interpretato e che comunque la storia è rimasta effettivamente in sospeso è rimasta aperta quindi c'è margine per poter andare avanti ancora con un'altra serie di questa stupenda di questo stupendo show americano degli inizi anni 2000 tra l'altro se mi permettete prima di chiudere uno show che ha un po anticipato i tempi è perché lo dico per quelli che non avessero mai visto il 24 si vede già jack bauer quindi questo agente dell'antiterrorismo americano nel 2001 2002 girare con un cellulare con la mappa dei posti che deve visitare no una sorta di precursore di google map era il 2001 2002 google map non c'era ancora è già in questo fantastico telefilm si vedeva si vedevano molti personaggi utilizzare il cellulare per orientarsi per avere informazioni ricordo per i più giovani che nel 2001 2002 2003 2004 fino al 2010 potrei quasi dire il cellulare era semplicemente usato per ricevere e fare telefonate si potevano mandare messaggini sms ma poco poco altro quindi il fatto che una serie televisiva già all'epoca in qualche modo mostrasse come con un cellulare all'epoca lo chiamavano un palmare si potesse fare veramente di tutto ecco se mi permettete era un po precursore dei tempi una serie precursore dei tempi ecco mi sto incartando buongiorno buongiorno auguri a voi va bene di questo abbiamo parlato quest'oggi buon martedì termina qui questa rubrica non voglio rubarvi altro tempo grazie per avermi seguito anche quest'oggi siete tantissimi io vi ringrazio per coloro che si stanno registrando a questo canale youtube per voi come dico sempre un click sul tastino registra è questione di un mezzo secondo per me invece è molto utile per far crescere questo canale quindi grazie commentate perché più commentate ve lo dico senza troppi giri di parole più questi video possono essere visti anche da altre persone mettete un like condividete fate girare insomma se siete se siete ecco è mattina non riesco nemmeno a parlare bene se siete videomaker e siete interessati a video tutorial di montaggio video di grafica animata after effect e cose del genere stringete i denti perché sto preparando i corsi nuovi corsi accelerati di premiere pro non 80 lezioni ma molte meno lezioni più sintetiche per imparare ad utilizzare questo fantastico software stessa cosa per after effect e in futuro intenzione di farlo anche per photoshop e audition molti mi chiedono audition e anche un bel corso di musica per poter fare in modo che tutto questo diventi realtà ho bisogno però del vostro aiuto vi chiedo se potete ovviamente se ne avete la possibilità di registrarvi e di abbonarvi anche a questo canale youtube registrarvi registrarsi è completamente gratuito abbonarsi richiede un piccolo contributo di tre euro al mese poco meno di tre caffè al mese che mi offrite anche qui magari per voi tre caffè al mese possono non essere una grandissima spesa per me però i vostri caffè mi aiutano a portare avanti questo progetto quindi nel caso decidiate di registrarvi grazie in anticipo a domani buona giornata forza